Diciamo un faccino rosso questo ragazzo, ma in che mondo siamo? Voglio dire, perché poi dobbiamo combattere la pandemia, dobbiamo metterci la mascherina, dobbiamo stare distanziati, ma abbiamo un po' perso, come posso dirle, il senso della realtà. Perché io questo lo considero senso della realtà? Cioè il sindaco di quella città deve andare da questo ragazzo e dirgli dopo averlo visto questa sera caro ragazzo la multa non la paghi, come un tempo si faceva con le raccomandazioni. Ne abbiamo visti casi sclamorosi che sono usciti di inchieste giudiziarie. Forza Salvini, buonasera intanto. Grazie a te Nicola per l'invito. Poi apprezzo l'equilibrio di questo ragazzo che non se la prende con la sfortuna, col vigile, con la legge. Se non gliela toglie il sindaco la multa, chiedo alla tua redazione di farmelo sapere, ce ne facciamo carico noi. Questo ovviamente non vuol dire che i multati di Mezza Italia domani mi scrivono su Instagram o su Facebook mandandomi il verbale. Però è un comportamento così lineare ed è una sanzione che appare così surreale che ti prego di informarmi. Se non interviene il comune, come mi auguro che intervenga, io conosco anche il sindaco di Forte di Marmi come persona equilibrata, ce ne facciamo carico noi. Però quanti, Francesco, ci sono? Ti faccio un esempio e faccio un appello. Io ho fatto il ministro dell'interno, quindi sono sempre comunque con le donne e gli uomini in divisa. Sempre. Però sapere che ci sono dei dipendenti comunali o dei pubblici ufficiali che vanno a misurare col centimetro i seggiolini e i tavolini dei bar, che hanno vissuto mesi di devastazione e se hai 15 centimetri fuori norma ti danno migliaia di euro di multa, è indegno di un paese civile. Questo non vuol dire chiudere gli occhi di fronte alle irregolarità, però andare a sanzionare, a cavillare, in casa di persone che stanno rischiando il lavoro e stanno rischiando una vita di risparmi per 20 o 30 centimetri è come sanzionare il bacio di Francesco. Ci sono delle norme pesanti, adottiamo il buonsenso. Io prima di venire in onda con te ero al telefono con dei nostri sindaci e con un nostro governatore. Quello che gli italiani chiedono al governo non è la bacchetta magica, Nicola, nessuno ha la bacchetta magica. Io non vengo su Rete4 dicendo che se ci fossi io al governo non ci sarebbe il virus, ci sarebbero soldi e fortuna per tutti. No, però gli italiani chiedono programmazione, certezza, serietà. Non si può accendere il telegiornale? Oggi sarò giallo, arancione o rosso? Oggi chiudo, oggi apro. Oggi vado a scuola, oggi sto a casa. Quello che è inaccettabile è che il governo abbia perso mesi, i mesi della primavera e dell'estate senza organizzare la seconda ondata e che poi si navighi a vista su dati vecchi. Oggi scopriamo che l'Avruzzo, l'Umbria, la Liguria, la Toscana e la Basilicata sarebbero arancioni. Eh sì, no, sarebbero, sono arancioni. Scusa Nicola, perfetto, ma un imprenditore, un lavoratore, un insegnante, un medico, un taxista, un agente di commercio, non si è mai parlato dell'esercito dei 230 mila agenti di commercio che vivono di spostamenti, di aperture, di contatti umani, di negozi? E cosa fai? Lo avvisi alle 8 di sera che 24 ore dopo deve starsene a casa? Ecco, chiediamo programmazione, certezze. Poi per carità il virus è una brutta bestia, però sapere che ancora oggi mi hanno scritto tre presidi di tre scuole italiane, stanno arrivando i banchi con le rotelle, quando gli insegnanti presi degli studenti... Fermo là, che abbiamo tutto! ...non stanno andare in classe o se starsene a casa. Almeno fermiamola, sta roba qua, occupiamoci di cose seri, non di monopattini elettrici, di banchi con le rotelle. Andiamo per ordine, lei ha fatto cenni dell'universo di cui ci occuperemo, quel piccolo universo di cui ci occuperemo questa sera. Non volevo portarle via al mestiere. No, no, ma le ha citate tutti, perché tutte queste cose sono cose di cui vogliamo parlare, però vorrei concretezza da lei su come risolvere alcune questioni. Siccome le zone rosse vuol dire, come ha ricordato lei, per imprenditori, per ristoratori, per baristi, ma anche per Francesco, che non poteva più andare da Prato a Forte dei Marmi, perché non avrebbe preso l'aperitivo e non si sarebbe più spostato, ma da domani, da mercoledì, non da quando c'è andato, cosa succede in una regione? Perché il vero tema fondamentale è qui, che noi ci hanno detto che la Campania era in una situazione disastrosa, al collasso i suoi ospedali, ma la Campania ancora in realtà è nella zona più neutra, cioè quella gialla. Guardiamo un servizio sulla Campania, la prego, vediamolo insieme e poi cerchiamo di capire, però senza polemica, cosa può essere successo. Io voglio capire cosa è successo. Guardiamo. I pronti soccorsi a Napoli non c'è nessuno, le ASL non funzionano, i reparti sono strapieni. Questo è il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, il più grande della Campania. Qui i pazienti positivi al Covid sono messi assieme a quelli che arrivano per altre patologie, divisi soltanto da un separato. Questa è una grossa sala d'attesa Covid, fondamentalmente. Così anche chi non è positivo e passa da quella parte, il pronto soccorso rischia di infettarsi. Purtroppo se pare di gomma là, non è in un muro, l'aria passa, il rischio esiste, ovviamente il rischio esiste. Ci sono delle carenze che non sono state risolte nel frattempo. Sappiamo come andare alla guerra, ma le armi comunque ancora non ce le hanno date. I medici nel 118 non sono previsti delle mascherine. Lei mi sta dicendo che dopo sei mesi dalla prima ondata mancano ancora dispositivi di protezione individuale? Altro che ora maggiormente. Sono le 11 del mattino e questa è la fila di auto davanti al pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli. Per alcuni casi più gravi, i medici sono costretti a portare le bombole d'ossigeno fin dentro le auto. Stiamo facendo un ennesimo miracolo. Campania. Quando arriva un'ambulanza con un paziente positivo, l'accesso poi alla struttura è garantito o c'è il rischio che debba attendere? No, non c'è il rischio, è la certezza che debba attendere. Deve rimanere l'ambulanza perché non ho spazio fisico, ho saturato qualunque attacco di ossigeno. C'è un pensiero che l'assilla quando lei torna a casa? Io non riuscirò a fare nulla. Questo per me è una sconfitta. Onorevole Salvini, non mi dica che è una questione politica, io non ci posso credere che sia una questione politica, però c'è qualcosa che non funziona perché, guardi, questo servizio, basta accendere le telecamere, non so se la regia può rimandare in onda, io le vorrei di far vedere, guardi, a lei e ai nostri telespettatori, a Sanzonetti, solo 10 secondi davanti a un pronto soccorso, se riuscissero a farmi capire anche con un gesto, con una cosa così, con le mani, se posso mandarmi questi 30, me lo potete mandare, questi 10 secondi della bombola, io voglio far vedere questa cosa della bombola, se è possibile, se non è possibile sentiamo la risposta di Salvini. Cosa ne pensa allora, onorevole Salvini? Cazzo, ma mi rispondi! Per alcuni casi più gravi i medici sono costretti a portare le bombole d'ossigeno fin dentro le auto. Scusi, ma gliela volevo proprio far rivedere, perché quando poi si parla dei medici e degli infermieri eroi, io non uso la parola eroi, ma un medico che si mette fuori dal pronto soccorso con la bombola, non mi possono dire che non è al collasso lì la sanità, almeno in quell'ospedale, non me lo possono dire, non lo posso sentire una cosa così. Forza Salvini. Due riflessioni. Uno, spero che qualcuno del governo stia guardando la sua trasmissione, come gli italiani hanno visto un'altra trasmissione su un altro canale qualche ora fa, che ha fatto saltare un commissario alla sanità in Calabria, perché aveva detto cose indegne. Peccato che sia stato sostituito con un altro commissario alla sanità in Calabria, non calabrese, che ha detto cose altrettanto indegne. Io mi rifiuto di pensare che non ci sia un medico, un primario, un rettore universitario calabrese che possa occuparsi della sanità in Calabria e dell'emergenza ospedaliera in Calabria. Quindi lasciamo che se ne occupi un calabrese invece di trovare geni dalle altre parti del mondo. E spiegatemi come la campagna può essere zona gialla, zona esente da rischio, ma questo non è un ragionamento politico, è qualcosa che dovrebbe allarmare napoletani e campani in primis. Sai cosa mi ha detto, Nicola, qualche governatore di altre regioni? Sì. Che per assurdo, se una regione non fornisce tutti i dati richiesti, non viene dato il voto peggiore. Come a scuola, se tu hai dieci domande e non rispondi a cinque domande su dieci, ti danno l'insufficienza. Sai qual è il criterio che invece usa il governo? Se tu non rispondi ad alcune delle domande, ti danno come voto positivo. Quindi è chiaro che se qualcuno, ma non dico per volontà, ma non riesce a dare tutti i dati in tempo reale, non viene classificato come zona a rischio, viene promosso. Ma lei farebbe, onorevole Salvini, se lei fosse al governo... Chi segnala tutto passa per fesso e chi non segnala qualcosa passa per furbo, ammesso e non concesso che rimanere zona non a rischio. Quando la situazione è quella che avete documentato, mi auguro che qualcuno intervenga. Se lei fosse al governo, onorevole Salvini, lei adotterebbe un lockdown nazionale? Perché poi io mi rendo anche conto che è molto... No, farei di tutto per non adottarlo, Nicola. Farei di tutto per non adottarlo come? Utilizzando le cure a domicilio. Sono settimane che vado sostenendolo, prendendomi insulti da parte di qualche poveretto. Non è una posizione politica o partitica. Ci sono ormai decine, centinaia di medici, di medici, di medici di base, di pediatri, di medici ospedalieri, di primari ospedalieri, sia pubblici che privati, che dicono che il problema è l'intasamento degli ospedali di persone che potrebbero essere curate a casa perché il 96% dei contagiati non ha sintomi o ha sintomi lievi. È chiaro che se li mandi tutti in ospedale, l'ospedale collassa. Se curi a casa con tutti gli antivirali che usano nel resto del mondo, coloro che possono rimanere a casa, una parte del problema lo risolvi. La mortalità di questa seconda ondata, fortunatamente, è più bassa rispetto alla mortalità della prima ondata. L'81% dei deceduti ha più di 81 anni e il 70% dei deceduti ha altre tre malattie. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna tutelare i fragili, tutelare gli anziani, tutelare i diabetici, gli oncologici, i cardiopatici, assistendoli a casa e riservando loro degli orari per i mezzi pubblici e per la spesa, ma non sequestrando 60 milioni di persone. Questa è la morte sociale, civile e culturale di questo paese. Il presidente della regione Liguria, poi il tweet l'ha rielaborato perché nella sua prima uscita era abbastanza infelice, però il presidente Totti ha detto esattamente la stessa cosa. Aiutiamo e cerchiamo di tutelare soltanto i più fragili e i più anziani. Lei è sicuro che questa non sia una posizione molto impopolare, posto che l'Italia è fatta da molte persone anziane e che comunque un lockdown solo per loro verrebbe considerato incostituzionale? No, ma io sto dicendo l'esatto contrario. Io non voglio tutelare... Io ho due genitori di 75-76 anni che sono più in gamba di me, che magari sono a casa con mia figlia di 7 anni, saluto loro e saluto mia figlia. Io non voglio rinchiudere a casa loro. Molto semplicemente si possono riservare a persone di 70-75-80 anni con problemi di pressione o di cuore o di altre malattie come i miei genitori alcuni orari dove solo loro vanno a fare la spesa. Dalle 10 alle 11 al supermercato ci entrano solo loro. Dalle 10 alle 11 l'autobus lo prendono solo loro. Quindi il sacrificio lo fanno gli altri. Un trentenne, un quarantenne, un cinquantenne. La spesa può farla prima o può farla dopo. Se si organizza il lavoro può prenderli prima o prenderli dopo. Quindi dobbiamo tutelare questo patrimonio italiano che sono i nostri genitori e i nostri nonni perché non sono improduttivi come qualcuno infelicemente ha scritto. Sono coloro che hanno fatto grande questo paese. Quindi hanno diritto a una corsia riservata. Cure a domicilio, tamponi a domicilio e domani presentiamo la proposta economica della Lega con i nostri esperti un taglio delle tasse come hanno fatto altri paesi europei per coloro che hanno chiuso. Perché io ti chiudo la palestra, ti chiudo il bar, ti chiudo il negozio ho il dovere di risarcirti del mancato incasso. Non con norme. Sai Nicola, chiudo con questo. Io oggi sono andato a farmi, mi sono preso mezz'ora e sono andato in pausa pranzo con la fidanzata in centro a Roma. Sai che ho parlato con i proprietari di questo ristorante non faccio il nome, comunque in via dell'Orso non hanno ancora visto un euro di cassa integrazione dalla scorsa primavera. Un euro. Quindi prima di fare il decreto ristoro il decreto ristoro 2, il decreto ristoro 3 posso chiedere a nome di questo popolo silenzioso ma sempre più giustamente incazzato che quantomeno l'Inps e il governo ottemperino alle promesse e agli impegni presi con milioni di italiani dallo scorso marzo. Senta, mi faccio... Perché la cosa assurda è che se non hai avuto la cassa integrazione della prima chiusura non puoi fare neanche domanda per la seconda chiusura. Senta, onorevole Salvini... Se una partita IVA o un commerciante o un imprenditore non ha preso il bonus del primo giro non prende quello del secondo, ma è una follia. Onorevole Salvini, le voglio fare una domanda e poi dopo voglio fare una domanda anche da Sanzonetti la mia domanda è, sentendola parlare mi sembra che la sua critica a questo governo in questo momento sia più organizzativa più di gestione, più di buonsenso che una grande opposizione politica se posso permettermi cioè lei non sta dicendo rivoluzioniamo tutto lei sta dicendo ci sono certe cose che dovrebbero essere fatte con maggior buonsenso mi corregga se sbaglio non c'è una critica radicale all'essenza proprio di questo governo oggi o sbaglio? Guardi, le persone che io incontro quotidianamente oggi ho fatto telefonate con gli ingegneri con gli agenti di moda con i camionisti, con i rettori dell'università in questo momento uno non pensa alla divisione dei partiti ai sondaggi, agli equilibri politici centro-destra, centro-sinistra ha dei problemi e chiede la soluzione con buonsenso di problemi Poi, lei ha cominciato la trasmissione parlando del vaccino giusto? Sì, certo Perché pare, così abbiamo sentito ai telegiornali che ci sia negli Stati Uniti questa ipotesi di una grande multinazionale che sarebbe a buon punto col vaccino Ora, io le chiedo se è normale non so se ce l'avete in redazione se è di buon gusto a proposito di polemica politica che il sottosegretario alla salute del governo italiano e del Partito Democratico abbia detto fortuna che la notizia del vaccino è venuta dopo le elezioni di Trump la scienza ha sempre ragione ma ti pare normale? L'onorevole Zampa L'onorevole Zampa l'abbiamo visto Ma ti pare un tweet normale buttarla in politica buttarla in vacca anche sulla salute, sulla vita sulla morte delle persone perché ti sta sulle palle Trump ma sarai mica normale da sottosegretario che si occupa della salute vabbè che un governo che nomina come commissario in Calabria uno che dice il virus lo prendi solo con la lingua in bocca per un quarto d'ora e giovani scopate per carità di Dio viva l'amore fate l'amore non fate la guerra però da un commissario che si occupa della vita della morte delle persone mi aspetterei dei ragionamenti un pochino più evoluti quindi però non perdo il tempo a far polemica su questo io sto impazzendo per cercare che il governo e l'agenzia del farmaco approvino dei protocolli per la cura a casa degli italiani e ti faccio e mi taccio un altro spaccato di vita normale di cui si parla poco in televisione oggi ho parlato con una presidente di una federazione di associazioni di sordi in Italia ci sono 6 milioni di disabili ci sono quasi un milione di sordi mettiamoci a volte non lo faccio neanch'io però mi ripropongo di farlo nei panni nella testa nella bocca nel cuore di chi non ci vede di chi non ci sente di chi è in carrozzina tu ti rendi conto della vita con le mascherine di qualcuno che non ci sente tu ti rendi conto della vita mancante di ragazzini a cui viene negato il diritto alla scuola dove hanno l'insegnante di sostegno e per loro la didattica a distanza non esiste tra poco glielo facciamo vedere siamo andati in un quartiere di Milano che lei conosce bene tra poco tutte queste cose sono là comprese forza Sanzonetti a me piace questo Salvini però lei parla di tutto porro incredibile lo vedevo da un sacco di tempo un Salvini così tranquillo poco polemico pacifico non si è mangiato neanche un immigrato in mezz'ora mi è piaciuto però Salvini devo fare due osservazioni la prima riguarda il commissario Calabrese perché lei ha ragione sul secondo il primo però se non sbaglio è stato nominato dal suo governo forse la questione dal suo governo nel senso dal governo nel quale lei partecipava forse la questione è che pensare che si risolvono i problemi del sud nominando dei generali a fare i medici non è una grande idea da tempo non è che è colpa sua lo fanno da decenni ma non è coi carri armati che si risolve i problemi del sud tantomeno nominando dei carabinieri primari questa è la prima osservazione la seconda gliela faccio sottovoce perché lei ha detto delle cose ragionevoli non so quanto siano ragionevoli quelle dell'assistenza a casa però è un'idea bisogna sperimentarla vederla neanche quella sugli anziani anzi le devo dire che a me sto fatto come su anziano questo fatto che devo fare la spesa solo con gli altri vecchietti non è che mi piaccia tanto io preferirei andarla a fare con Porro comunque farò la spesa con i suoi genitori però un'obiezione gliela voglio fare lei non lo diciamo a nessuno ma se ci fossero stati un po' più di soldi in questi mesi non voglio dire che il governo li avrebbe usati bene però magari li avrebbe usati magari li avrebbe usati bene magari li avrebbe dati a Regioni magari avrebbe fatto degli investimenti in stranità Salvini ma sto mess perché non ci ha fatto prendere perché non ci ha fatto prendere questo mess che adesso stavamo tutti mi dica la verità ci ha ripensato non lo diciamo a nessuno se lei mi dice che ci ha ripensato io non lo dico poi a nessuno però lo ammetta che ha fatto una sciocchia stai buono là fammi sentire non lo ammette non lo ammette però direttore è curioso che si imputi all'opposizione eh sì va bene qualcosa che non fa il governo sì sì certo adesso che il governo non faccia delle cose perché c'è Salvini brutto e cattivo che è all'opposizione che non gliele può impedire però se gli diceva fallo faceva tanto io poi ritengo perché non gli ha detto di parlo io ritengo che i famosi 37 miliardi del MES che ci metterebbero nelle mani della troica domani mattina potrebbero essere superati con l'emissione di buoni del tesoro che gli italiani e gli investitori italiani non vedo l'ora di sottoscrivere perché c'è stata una richiesta di 90 miliardi di euro di buoni del tesoro e il MES ne cuba solo 37 quindi io preferisco dare in mano agli italiani il futuro del mio paese piuttosto che a un soggetto che sta in luce però adesso fermo là Salvini detto questo c'è il governo quindi decida il governo va bene va bene però mi faccia dire eh eh ovviamente stiamo parlando di salute di scuola di lavoro domani mattina ad esempio magari non finiranno sui telegiornali però ci tengo visto che è una vicenda che avevo seguito ahimè senza successo a mandare un abbraccio se ne faranno poco però che non si sentano solo i 150 operai della Treofan di Terni che vengono messi in liquidazione questo a prescindere dal covid perché sono stati comprati da una multinazionale straniera che poi ha chiuso ha salutato Baracca e Burattini e spero che al ministero dello sviluppo economico qualcuno abbia a cuore questa vicenda io di immigrazione non parlo ma mi faccia dire che la Sicilia è zona arancione i siciliani non possono uscire dalla Sicilia gli italiani non possono andare in Sicilia dal primo novembre ad oggi sono sbarcati più di 3.000 immigrati irregolari sono in Sicilia io lo dico solo perché lei che non parlava di questo tema no no fermi là però non si può non si può solo no 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 guardi ne parliamo ne parliamo dei porti verdi ne parliamo dopo senza salire di quelli che sbarcano ogni quarto d'ora fermo là io ho promesso questo servizio perché voglio farvi vedere questa signora perché noi ci facciamo veramente dei ragionamenti da pazzi da brioche di Maria Antonietta talvolta questa signora sta in una casa con dei figli guardate cosa vuol dire non per me non per i miei figli ma cosa vuol dire la didattica a distanza perché noi quando parliamo di 5 regioni che questa sera sono arancioni quando parliamo di didattica a distanza pensiamo che sia così una notizia che al centro di Roma può arrivare più o meno interessante può essere più o meno interessante guardate con la bullion cos'è questa roba qua questo è un servizio guardi Salvini che secondo me non ha neanche bisogno di commenti guardiamo ogni tanto loro vengono fuori mamma possiamo ordinare una pizza e quando lo facciamo per loro è come se hanno vinto a totocalcio perché sta pizza che ordiniamo è una volta ogni sette mesi perché per noi anche quei soldi della pizza ci facciamo la spesa per altri giorni la nostra entrata è una pensione di mio marito di 780 euro e con quella quante persone devono vivere? sette cinque ragazzi e io e lui quando dicono ma sì la didattica a distanza è comodissima aspetta è comodissima se hai un figlio solo se hai le stanze lei per studiare deve andare dentro lo sgabuzzino abbiamo un computer che non funziona le prof hanno hanno chiesto il cellulare e i due piccoli è vero che adesso nel 2020 tutti i ragazzini hanno i cellulari ma non è detto che tutte le famiglie possono permetterselo e la gente quando ha fame arriva la respirazione andare tutti lì a Roma prenderli e metterli qui a Quartogiaro nella casa delle povere persone che non riescono a mangiare lavoravo lì in ufficio stavo bene tranquillamente poi dopo sono arrivati i problemi di chiusura mi hanno lasciato a casa anche a me io tra l'altro ho un'invalidità al 100% ricevo la pensione minima per le spese delle protesi che sto usando le protesi per sentire le spese sono tante non è una vita normale questa cosa ma se viene fuori una guerra non è una cosa bella mangiare un po' di pasta e un po' di formaggi e qualche volta se riesco prendo anche un po' di carne insomma non sempre è un'attività che ho voluto tanto e che a cui ho dato tanto ho chiuso per non creare dei debiti lei ha un'entrata adesso la mia entrata mi permette attualmente di sopravvivere lo spirito di sopportazione della gente ha un limite il mio può essere in linea immaginaria ma chi ce l'ha qui oggi si impicca io quando sento una signora che ha 5 figli e che dice una cosa che dovrebbe essere di secondo me banale attualità cioè che non tutti hanno a 10 anni un cellulare e che oggi sta partendo il click bonus per i computer allora francamente guardi Salvini io non so se è colpa di questo governo glielo dico molto francamente perché è difficile le povertà sono difficili per oggi le povertà sono aumentate di 10 volte quindi a tutti quanti magari c'è qualcuno di quelle aziende grandi aziende che fa computer e cellulari insomma è una roba che tu non ci puoi credere perché noi siamo abituati ad averne due addirittura di cellulari lo dico molto francamente per lavoro eccetera io quando vedo una signora così vi dico la verità sarà il populismo caro Sanzonetti però è un bagno di piccola realtà questa signora sta a Quartogiaro non sta nella giungla non sta nella giungla questa sta a tre fermate di metropolitana a quattro fermate di metropolitana dal centro di Milano c'è una parte consistente della nostra società che fa i conti con la povertà tutti i giorni e col covid due volte in più questa è la cosa la cosa che voglio ricordare a tutti quelli che sono a casa esattamente quello che ha detto delle brioche il covid peggiora tre volte di più quello che già è un dramma per molte persone Salvini non ne faccio fare nessuna battuta su questo perché lei ha visto anticipato alcune cose che noi abbiamo detto in questo servizio tra l'altro una di quelle persone era disabile esattamente come lei individuava con un problema di solidità che cosa vuole che mi può dire più di questo mi può dire poco però una cosa gliela devo chiedere e cioè quando il governo quando il governo e Mattarella una cosa una prego quando il governo Mattarella vi chiedono di mettervi insieme per cercare di trovare una soluzione si figuri se io sono uno dei governi istituzionali dove nessuna responsabilità cioè non li amo queste robe qua perché le responsabilità devono essere individuali almeno dal punto di vista politico dovrebbero essere così però cioè voi avete la concezione a Roma si capisce che questa situazione è la polveriera in cui siamo perché noi abbiamo fatto vedere il lato buono ma il lato cattivo è gente che non reagisce come quella signora o come quel signore sono veramente furibondi prego Salvini e poi voglio andare su un altro tema guardi io ho tanti limiti e tanti difetti però il contatto quotidiano con le persone soprattutto con le persone che si sentono di meno e hanno di meno per me è un dovere ma non da senatore da cittadino italiano quindi conosco bene la situazione di Quartogiaro come di Ostia come dello Zen di Palermo sulle scuole noi da qualche mese che proponiamo di sospendere la richiesta e fornitura dei banchi con le rotelle si spende circa un miliardo sai quanti tablet si comprano con questo questo è vero per comprare i banchi con le rotelle ci sarà tempo anche perché la signora ha un problema economico a Quartogiaro ma tu tieni presente che un terzo dei cittadini italiani visto che l'Italia non è solo Minano Roma Torino Napoli Palermo e la pianura un terzo dei cittadini italiani che vive in montagna che vive in Aspromonte sugli Appennini o sulle Alpi non ha connessione internet quindi tu mi spieghi la didattica a distanza o il lavoro a distanza dove non c'è connessione col telefono e col computer come diamine lo fai quindi investire in questo è una priorità detto questo miracoli non se ne fanno 13 regioni italiane su 20 Nicola hanno chiesto al governo permettete ai medici di andare in sicurezza a casa delle persone a curare le persone invece di mettergli la bombola d'ossigeno sulla Fiat nel parcheggio del pronto soccorso di Napoli e quindi spero che il governo permetta ai medici ci sono 43 mila medici di famiglia in Italia se almeno una parte di questi potesse curare a domicilio se almeno i farmacisti avessero tutte le armi a disposizione per combattere il virus avremmo meno problemi negli ospedali tu ti ricordi a giugno il presidente del consiglio conti aveva proposto un taglio dell'iva perché il taglio dell'iva entra nelle case di tutti gli italiani perché il pane la frutta la carne le scarpe il mobiletto il telefonino lo comprano tutti gli italiani ultima cosa senatore abbiamo studiato al centesimo di euro entrate e uscite come si può tagliare la parte di l'iva per aiutare quelle famiglie spero che ci ascolti per una nostra battaglia che voglio portare in prima serata le faccio vedere questa roba qua se la ricordi al senato lei la conosce probabilmente Ludovica Bullian sì Nicola noi siamo qui al porto di Mazzara del Vallo da dove sono partiti l'ultima volta quei 18 pescatori che da 70 giorni sono sequestrati in Libia a Benghazi e sono 70 giorni di angoscia per i familiari Rosario la moglie di Nuccio questa chiamata che voi speravate non è mai arrivata buonasera infatti dopo 70 giorni ancora noi non abbiamo notizie concrete e non capisco come mai ancora non c'è nessuno del governo che riesce a risolvere questo problema ancora non si capisce non non si capisce che questi uomini là non ce la fanno più psicologicamente quanto possono durare questi uomini là non si capisce devono risolvere il problema il più presto possibile grazie grazie è la madre del capitano marrone io parlo da mamma 70 giorni che sono prigionieri 70 giorni che dicono sempre le stesse cose noi vogliamo i nostri figli mariti padre noi non ce la facciamo più fate al più presto di portarle subito a casa grazie non è il modo più di vivere grazie salutami tutti quanti la signora l'abbiamo vista anche a Roma Salvini un minuto la prego mi spieghi che cosa concretamente può fare e se in realtà in queste trattative lavorano i servizi segreti lei nel suo partito c'è il presidente del copasire quindi forse dovremmo stare un po' più zitti perché stanno trattando ma guardi innanzitutto ieri era domenica sono andato nella tenda che hanno allestito davanti a Montecitorio a trovare Cristina Insaf e Leonardo la moglie la figlia di uno dei marinai rapiti perché di questo si tratta e l'armatore di una delle navi sequestrate illegalmente ho fatto il ministro certe cose si fanno in silenzio ma volere è potere e 70 giorni di assenza sono assurdi con una sola telefonata quanti miliardi abbiamo dato alla Libia tanti quanti rapporti commerciali abbiamo in corso con la Libia tanti quanti soldi abbiamo pagato in passato per liberare ostaggi che non erano stati catturati perché stanno lavorando ma perché erano allegramente in giro per il mondo in zone a rischio tanti questi stavano facendo i criminali no questi stavano pescando gamberi rossi questi stavano pescando gamberi rossi quindi io mi auguro che velocemente il ministero degli esteri e chi di dovere e ripeto ho gli elementi per dire che volere è potere diano in fretta una risposta a quelle mamme e a quelle mogli perché 70 giorni sono un periodo di tempo inammissibile e altri paesi non sopporterebbero in silenzio quello che stanno sopportando queste famiglie Gena Gnocchi dai arriva anche tu questa sera perché così si drammatizziamo un po' che l'abbiamo fatta pesante no non è intanto volevo dire che ho lasciato la macchina in divieto di sosta al vigile ho detto che la multa la paga Salvini perché comunque ci pensa lui e poi e poi no e poi soprattutto volevo esprimere volevo esprimere solidarietà a Salvini perché sull'area disabili che è una cosa che mi fa incazzare no questo mai questo mai questo mai Matteo quella te la paghi tu il divieto di sosta ne possiamo parlare se hai preso la responsabilità lo paghi tu no volevo sapere innanzitutto solidarietà a Salvini perché la chiusura dei ristoranti è chiaramente un attacco alla sua persona inqualificabile è sbagliato e poi volevo dire a Salvini che volevo svelare un piccolo segreto Salvini dice che è in collegamento da Roma ma in realtà non è così so che sei in collegamento no so che sei in collegamento da una località segreta perché Trump ti sta cercando perché continuando a portare la mascherina con Trump 2020 gli hai portato una sfiga terribile lo sai bene e poi ultima cosa no ultima cosa te la devo dire colpa di Salvini anche questa no questa cosa di Zaia questa cosa di Zaia scusa Matteo che ha detto che bisogna far fare i tamponi ai veterinari no è vera questa cosa no io ho chiamato il mio veterinario di fiducia mi ha fatto sono medici mi ha fatto il tampone il mio veterinario ho scoperto che sono negativo e anche che sono un incrocio tra un Doberman e un Alano dico è possibile una cosa del genere no te ridi ma a me grazie grazie senatore no Nicola l'ultima cosa voglio chiederti allora Zuccatelli ha detto che per contagiarci bisogna limonare 15 minuti Nicola tu hai preso il Covid con chi hai limonato 15 minuti con Sansonetti con Capezzone con chi cavolo hai limonato io voglio saperlo dimmi dimmi Matteo no ne approfitto per rispondere al volo su sulle elezioni americane in democrazia chi vince ha sempre ragione aspettiamo i risultati ufficiali perché per il momento abbiamo i risultati delle agenzie di stampa delle televisioni delle radio dei giornali in democrazia si aspettano i risultati ufficiali e visto che non Salvini ma gli americani hanno dato a Trump 70 milioni di voti e in alcuni stati la partita è ancora aperta io non vedo l'ora di complimentarmi col nuovo presidente degli Stati Uniti d'America che rimane la democrazia di riferimento per il mondo quando ci saranno dei risultati ufficiali perché fino a che c'è mezza ombra di dubbio sullo spoglio e sul risultato penso che sia saggio aspettare grazie senatore Salvini l'onorevole Lorenzin Arditti che ci hanno raggiunto in studio il caso calabrese raccontato l'abbiamo evocato prima raccontato a Girardini grazie a tutti